Per me l'oratorio è uno spazio che è bello che abbiamo dentro della chiesa per tutti i bambini e ragazzi, così si possono divertire, imparare tante cose e soprattutto stare insieme. Felicità, compagnia, allegria, divertimento. Stare con Dio, armonia, insieme. E crescere in famiglia. Allora l'oratorio di Pagnaco per me è stato molto importante perché ho cresciuto i miei figli nell'oratorio, adesso sono diventata catechista e anche uno dei miei figli fa parte degli animatori dell'oratorio. Un posto per stare tutti insieme, per imparare e giocare. Uno dei cuori pulsanti della parrocchia. Bellissimo! Divertimento! Stare insieme! Amore! Compagnia! Compagnia! Come voleva Don Bosco! Spazio alla fantasia! Come voleva Don Bosco! Tanti ragazzi insieme! Come voleva Don Bosco! C'è un posto anche per te! Come voleva Don Bosco! Casa che accoglie e ti senti in famiglia, senti che ci sta bene! Oratorio con un posto Pagnaco! Yeah! Scuola che... C'è un si che corna il tempo, Christosofsky! Mi chè konnte di testarne! I mi leso... C'è un uo che... Paglia voi queste o che.. ja può不是.